A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo TEA per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Chiara Belliti, Monica Pais e Chiara Rapaccini. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2019 troverete anche gli audio di questa edizione. Allora grazie a tutti, anzi no. Accenti, persone, parole, idee, celebrità e sconosciuti, libri perduti e ritrovati, per 30 minuti contati, presenta Maurizio Matrone. Grazie, questo signore poi lo scoprirete dopo di chi si tratta. Buongiorno, benvenuti a questo accento, vi ricordo che la formula è quella dei 30 minuti, quindi allo scadere del termine questo evento finirà. Quindi non perdonatemi in anticipo, non abbiatemene. Vi ricordo che siamo in diretta e che già da domani questo evento si può rivedere sul sito festivalletteratura.it. Alla mia sinistra c'è un banchetto con il calendario straordinario di questo evento ed è in vendita qui e i nostri autori credo che saranno ben felici di autografarli, di parlare con voi. Da questo momento partono i 30 minuti, buon ascolto. Allora, grazie, chi è seduto qui sa di sicuro che è Monica Pais, chi è soprattutto il cane Palla e tutta la storia della clinica veterinaria Avemari, eccetera, eccetera. Siamo qui e la Monica vi racconterà cose, però accanto a lei, oltre a Palla, ci sono anche Chiara Rapaccini e Francesco Fagnani, sono due straordinari illustratori e fanno parte del gruppo che volontariamente, con passione, ha regalato le tavole, le illustrazioni per il calendario 2019. Mi preme dire che sono stati tanti gli illustratori che hanno voluto aderire, cioè abbiamo calendari per i prossimi almeno cinque anni e la scelta non è stata in base a bravura o meno, ma secondo la regola, chi arriva primo arriva ultimo, chi arriva ultimo arriva primo, abbiamo qui la prima che ha consegnato e naturalmente l'ultimo, che è Francesco Fagnani. Poi c'è stato gli altri. In copertina vedete il cane Palla disegnato da Giuseppe Palumbo, per chi non lo sapesse è il disegnatore di Diabolica e quindi anche di Eva, però c'è questo meraviglioso Terzo Paradiso che ci ha disegnato Michelangelo Pistoletto, che è un grande artista che lavora molto nel sociale, nel mondo che deve cambiare. Quindi chiedo a Monica, che non c'è, sei già alzata, io poi mi defilo, ma pensa lei, vorrei presentarti con una frase di Michelangelo Pistoletto che abbiamo messo qua, tratta da un suo libro. Per progredire nella formazione di una società evoluta è innanzitutto indispensabile stabilire un rapporto di pieno rispetto tra noi e gli animali. Tocca a te. Vi ho già salutati, vi risaluto e ringrazio tutti quanti, ringrazio l'organizzazione, io non sono molto brava, faccio solo il mio mestiere e voglio ringraziare i disegnatori, però voglio ringraziare moltissimo chi ha avuto l'idea e le possibilità e le capacità di mettere insieme questo calendario, che è lei naturalmente, che è Chiara Belliti, che mi... che ha confezionato questo dolce bellissimo e che mi ha... giusto? e che mi ha... che ha aperto delle porte nuove per me, per la Onlus, per tutti quelli che circuitano attorno alla Onlus, che sono veramente tantissimi. Soprattutto sono rimasta commossa dalla partecipazione di grandi artisti, i quali senza evidentemente conoscere niente di questa cosa, hanno colto attraverso le immagini, chi segue la clinica sa che io non mi dilungo, no? Perché anche il bello è lasciare alla testa degli altri, alla emotività degli altri, di elaborare i propri Mauro, i propri Palla, i propri gatti, i propri cani. E quindi Chiara ha detto che noi non li abbiamo scelti i disegnatori, cioè c'è stata una cosa... non so come farò a ringraziarli, voi sapete che io sono abbastanza caotica, non lo so, mi dovrò sedere una settimana per scrivere qualcosa su ognuno di questi disegni, perché ognuno di questi disegni racconta senza parole l'animale, il rottame da cui loro hanno preso spunto. Il calendario è bellissimo, non è bellissimo perché è di effetto Palla, è bellissimo perché è bellissimo, come è bellissimo riuscire a fare del bene a qualcuno che è ormai un vuoto a perdere e poi invece si trasforma, come ha fatto lei, in un regalo bellissimo. Quindi la gente mi dice complimenti, io non so di che cosa mi facciate complimenti, non applaudite, ve lo giuro sul serio. Io sono una persona felice che è riuscita a far capire agli altri qual era la mia strada per la felicità e in questa strada molti hanno cominciato a vedere una piccola parte, una grande parte della loro felicità. Io vorrei che parlassero loro e ci spiegassero, ognuno per il proprio disegno ma anche per gli altri naturalmente, che cosa li ha coinvolti in questo progetto a parte la follia di Chiara e vorrei che raccontassero, magari io se voi ne avete voglia, se abbiamo tempo, vi faccio un po' la storia degli animali del calendario. Non abbiamo fatto in tempo a preparare delle foto per parlarci sopra, però, esatto, però ce li abbiamo in carta in modo che molti di voi li conoscono già, se seguite la pagina sono tutti animali che sono usciti dalla clinica naturalmente e penso che possa essere un buon filo conduttore per parlare di questo calendario. Giusto? Siete tutti d'accordo? Perché Effetto Palla è una società, non è una lobby, quindi se siamo tutti d'accordo parliamo del calendario. Io avrei piacere che la copertina la illustrasse Chiara. Come vi ho già raccontato, per la copertina avevamo vari eventuali, però il segno del terzo paradiso di pistoletto secondo me era un segno molto forte che andava poi addobbato, quindi Michelangelo ha detto subito sì, bisognava trovare chi addobbasse e tutti avevano un po' di timore perché insomma tu lavori anche con un grande artista. Michelangelo all'inizio voleva tanti animalini sparsi dentro, fuori, boh, poi invece Giuseppe Palumbo che ha un, lo vedete no? Ha un bel, molto forte, ha detto ma perché tutti questi problemi? Facciamo che invece del leone della Metro Golden Mayer ci facciamo entrare il cane palla e da, devo dire, con la copertina è stata buona la prima, come poi con tutti insomma, ecco. Allora sfogliando, ve lo faccio anche vedere perché è bello molto graficamente, perché mi sono scordata, perdona, che lo ha fatto sempre da volontario un grande grafico italiano che è Beppe Chia, che è un uomo abbastanza scontroso, ma appena gliel'ho detto, detto lo faccio. Ha anche consegnato nei tempi, che questo è una cosa straordinaria. Quindi c'è, all'inizio si racconta un po' chi è, che cos'è effetto palla ed è bellissimo il divano col giornale, cioè una vita tranquilla dopo tante peripezie su un divano, possibilmente comodo, in una casa che non importa se sia ricca o povera, perché ci sia un'accoglienza. Allora la parola accoglienza poi di questi tempi è una parola forse anche troppo abusata, no? Ecco, quindi è troppo abusata però come quando uno abusa se ne fa poca probabilmente e quindi ripartire dalle cucce per arrivare poi a cuccioni, a cuccette o a cose più grandi magari, ecco diciamo che non sono solo, è anche una metafora. Qui trovate i protagonisti, quindi c'è come una specie di bignami di quello che troverete all'interno, no? Con i nomi degli illustratori. Allora all'inizio non sapevamo quali animali scegli, cioè ognuno ha quello del cuore, io ho quasi tutti quelli morti, non so perché c'è proprio una predisposizione al cadavere, però era, che sì, è proprio una, ci sono nata penso, per cui invece di morti ce n'è uno solo, di cui poi vi parla, insomma le storie ve le racconta Monica, però è un morto speciale, perché è un morto vivo, è una cosa che ha dato la miccia, più di palla forse o come palla, diciamo ha acceso questo percorso. Posso? Allora, siccome siamo indisciplinati e lei adesso parla di Mauro, che tu identificherai e farai vedere nel mese di aprile, disegnato da Belloni, giralo, è un uomo sandwich. Allora Mauro, che è nel logo della Onlus, come sapete, no? Mauro rappresenta l'altra faccia dei nostri dottami, perché lui, sapete che lui non ce l'ha fatta, lui però ha rappresentato lo sforzo che tutti possono fare anche quando la battaglia appare persa dall'inizio, nel senso che dall'inizio noi sapevamo che lui non aveva grandi possibilità, però siccome lui era vispo e vigile, aveva piacere ad essere coccolato e accarezzato, lui è quello che parla dei nostri animali anche di una scelta consapevole di accompagnarlo al suo destino senza forzare la mano. Noi decidiamo tutto per i nostri animali, cosa mangiano, quando escono, quando fanno la pipì. A volte forse abbracciamo l'idea di poter mettere fine alle presunte, perché vi esorto a ragionare su una cosa, i cani pensano e noi non sappiamo cosa pensino. Io so solo che animali che ancora manifestano affetto nei confronti del proprietario, interesse al cibo e non abbiano dolore, non hanno, non è giusto, loro non vogliono morire e Mauro quando è arrivato da noi non voleva morire e noi non l'abbiamo abbattuto, questo è. È un po' un'eutanasia affettuosa, accompagnarlo, coccolarlo, farlo conoscere a tutti e far capire attraverso lui che cosa succede agli animali abbandonati a se stessi. Abbandonati non vuol dire randaggi, abbandonati ci sono anche tantissime persone abbandonate che non sono randaggi. Cioè l'abbandono e porta spesso alle estreme conseguenze. Ma Mauro aveva il grimandello giusto per farci capire quanto possiamo fare anche in condizioni disperate e quanto arricchiscano tutti coloro che fanno qualcosa per aiutare qualcuno, qualcosa, un essere vivente in condizioni disperate. E lui è morto felice, se felice si può morire davanti a mio marito. Questo, non lo so, coccolati da mio marito, comunque lui è morto felice secondo me perché lui aveva ripreso a mangiare, lui sapevamo che non avremmo quasi, era impossibile che invertissimo la tendenza, però è stato bellissimo vedere che lui era contento di vederci, teneva abbracciato il suo pupazzetto, quando spostavamo il pupazzetto, lui guardava dove mettevamo il pupazzetto, è stato molto bello. Noi siamo animali e lui aveva capito che noi avevamo capito che eravamo tutti animali, è stato molto bello. E Mauro, perché il testimonial è l'angelo custode di Palla, è nel logo della Onlus, siamo stati contentissimi di averlo reinserito in zona Cesarini perché stava partendo ormai tutto, la situazione ci stava un po' sfuggendo di mano, così il logo, che è delizioso, ci è stato regalato da una persona che a me è molto cara per questo, e l'abbiamo infilato che lui era appena morto. La cosa bella è che io ho pensato che agli occhi della gente che seguiva effetto Palla potesse sembrare una forzatura, sai, usano questo che è morto e bla bla bla, e invece tutti quanti hanno detto grazie per aver messo Mauro. Quindi è stata una scelta dettata dal cuore che ho visto che è stata compresa e capita. Che mese era? Aprile. Siamo già in primavera. Il primo, gennaio, Romeo Toffoletti è l'illustratore, fumettista direi in questo caso, di Nathan Nevar. Ha cani suoi, che sono questi tre che vedete, uno quello grosso che Varsky è morto, poi c'è la piccola Schieber che è una iena e poi c'è quell'altra che è una diciottenne cieca che hanno trovato a Roma, che girava e l'hanno presa loro. Quindi queste sono storie che non sono quelle della clinica, ma è come se fossero. Poi c'è Palla, ma sapete tutti la storia di Palla, sì? No, vai Monica! Per alzata di mano, chi non sa niente di Palla? Tu lo sai non dire le bugie. E allora la seconda domanda è, come mai siete qua? Vi ho fregato, eh? Per conoscere la storia di Palla. Palla, allora Palla è uno dei 200 randaggi che la clinica assiste all'anno, 200 animali, cani e gatti, cioè noi assistiamo anche animali selvatici, però è diversa, è un'altra linea di produzione. La Palla è arrivata da noi con questa logica all'interno di questo progetto. Noi in pratica ammettiamo animali randaggi, vittima quasi sempre di incidenti stradali o di grave malattie, cioè hanno necessità di essere ricoverati, gli animali che arrivano da noi stanno male. Questo è lì, i randaggi che subiscono dei traumi hanno due strade normalmente, l'eutanasia o morire nei canili in attesa della morte. Ce n'è una terza, la terza è che qualche anima buona si prenda cura di loro e paghi le spese veterinarie. C'è da dire che le spese veterinarie specialistiche hanno dei costi molto elevati, quindi anche le associazioni hanno difficoltà a gestire cani molto problematici. E lì c'eravamo noi alla fine, no? Quello è il nostro spazietto, che è cresciuto con noi e con la nostra capienza professionale ed economica. E quindi adesso siamo in questo casino bestiale di animali randaggi che entrano e escono alla clinica. Quando è arrivata Palla, a gennaio del 2016, noi avevamo una pagina Facebook che lavorava già moltissimo, che serviva a piazzare appunto i rottami ricondizionati, perché non ha senso che noi ci teniamo animali mesi e mesi, li rimettiamo in piedi, li operiamo, poi che facciamo i cani al canile e i gatti in strada? No. Quindi avevamo già un bellissimo circuito sul quale, sulla pagina Facebook è arrivata, io ho pubblicato una delle primissime foto sue, non perché fosse un fenomeno da baraccone, perché da noi fenomeni da baraccone ce ne sono tantissimi, quanto perché noi non avevamo mai visto una cosa del genere. Quella foto ha fatto il giro del mondo, la pagina Facebook è balzata in una notte da 26.000 mi piace a 186.000 in una notte, adesso siamo a 400.000, io non ce la faccio più ve lo dico, siete troppi, troppo belli, ognuno avrebbe bisogno di una risposta personale, ma non ce la posso fare. E niente, poi attorno a Palla è coagulato, proprio precipitato come nelle reazioni chimiche, tutto un interesse spaventoso, noi siamo stati quasi travolti come struttura, come persone da questo effetto Palla, infatti l'Onlus si chiama effetto Palla perché è stato proprio un effetto strano che ci ha coinvolto, e abbiamo creato l'Onlus. L'Onlus in effetti è il braccio armato della clinica, il braccio, come posso dirvi, è la possibilità di realizzare al di fuori delle mura della clinica, progetti a favore di animali feriti, in linea di principio, perché quella è la nostra mission, o che abbiano comunque subito dei traumi, attraverso i progetti, e qui però vi prego di andarveli a cercare. Ma la storia di Palla qual è? La storia di Palla è bellissima, è una storia molto tenera e anche un po' fantasiosa, ma proprio nel senso fantasy, perché lei era una cagnetta di cui naturalmente non sappiamo nulla, come tutti i randaggi, noi l'abbiamo fatta nascere ipoteticamente il 15 di agosto, perché il 15 di agosto è una data che mi è cara, non sto piangendo per il cane, sto piangendo per mio padre che è morto a 101 anni il 15 di agosto e che mi ha trasmesso l'affetto per i cari. Basta, grazie. Niente, Palla quindi non sappiamo nulla di questo cagnetto, se non che lei vagava, abbandonata per le campagne di Terralba, che è un paese vicino ad Oristano, ed era molto schiva, e lei è cresciuta dentro un collare con un diametro di 18 centimetri, ed era già grande così, quindi in pratica lei è cresciuta dentro questo collare, quindi di fatto lei ha segato praticamente la testa, e lei è stata segnalata esclusivamente, non perché era in difficoltà evidenti, lei è stata segnalata perché per nutrirsi, siccome poteva usare solo tre dita di lingua che fuoriuscivano dal testone, perché bucava i sacchi del mangime delle galline di un allevamento, e i proprietari, la gente che la vedeva, che la era una cosa molto, era un proprio freak, ok? Fortunatamente questo le ha salvato la vita, perché è stata segnalata da un'associazione di volontari che ha messo in moto il nostro progetto con le ASL, con l'ASL di recupero di gente malconcia, e quindi la Calapiacani, che ha solo il nome della Calapiacani, che è una bravissima persona, è andato là, ha visto sto cane, ci sono le foto che io non ho messo, non ho portato, di lei arresa, perché è stata presa con un laccio in vita, perché chiaramente al collo non si poteva, ha usato un cagnetto per fregarla, un cagnetto, che è entrato dentro un magazzino, loro erano nascosti, quando loro sono entrati ha chiuso le porte, lei si arresa, ha detto ok, fate qualcosa, uccidetemi pure, liberatemi da questo supplizio. E quindi arrivate in clinica, arrivate in clinica, noi, io ho messo quella foto, la notte dopo era diventata una star, ha cominciato ad arrivare di tutto di più da tutto il mondo, dall'Australia, dal Brasile, noi abbiamo dovuto affittare un locale grande dove mettere tutto, bellissimo, bellissimo, e l'abbiamo vissuta anche, secondo me, tumultuosamente, perché non riuscivamo a stargli appresso a questa cosa, e lei, siccome la tenevamo libera in clinica, abbiamo un sacco di animali liberi in mezzo alla gente, ai clienti, ai proprietari, e lei era libera in clinica perché noi cercavamo di riprendercela come cane, no? Quando lei si è svegliata dalla prima anestesia, è quella foto dove lei gonfia ancora come un pallone e si appoggia a me, lei da lì non mi ha più lasciato, cioè lei da lì è sempre stata attaccata alla mia gamba, nel tipo che io ero in sala operatoria, lei era sdraiata subito dietro le porte, io ero alla scrivania, quelle foto che io metto, non sono, si vede che sono spontanee e fatte sul momento, è la realtà del motivo per cui lei è rimasta con me, perché io l'ultima cosa che desideravo dalla vita era avere un pitbull, perché lei poi abbiamo scoperto fosse un pitbull, ma all'inizio sembrava un tapiro, noi non capivamo veramente cosa fosse. Questa è la storia di palla. È andata bene? Però, visto che questo modello Hyde Park ha poco tempo, adesso vorrei presentare i loro animali. Benissimo, allora, la Chiara Rapaccini, che è quella che ha consegnato per prima, faccio notare. Lei consegna sempre per prima, anzi, ma... Ah, scusatemi. Ha disegnato un canino che si chiama Tremolino. Allora, voi dovete sapere che noi diamo nomi legati alla patologia, perché sono così tanti che noi non possiamo chiamarli Fufi, Lillo, Cici, Pipi, perché se no non ci si capisce niente. Quindi, così come Palla è stata chiamata Palla per questo motivo, e Uccio è stato chiamato Uccio, poi ve lo racconto, per questo motivo, Tremolino è arrivato da noi, è molto vecchio, veramente brutto, schifido, e tremava perché era in ipoglicemia. Quindi lui sul tavolo, in realtà volevo chiamarlo Budino, però il Budino era dolce, questo era anche stronzo, mordeva, l'abbiamo chiamato Tremolino. E lei, gli abbiamo detto, senti, scegli tu, e lei ha scelto Tremolino, adesso lei ci racconta perché le è venuto così bene, poi. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Mantua, torno dopo molto anni, devo dirlo, sono commossa di rivedere la cultura, stando bene, mangiando, bevendo, stando con un amico straordinario, viva Mantua, sono felice di essere qua. Grazie. Tremolino mi è stato suggerito da Chiara, l'altra Chiara, Belliti, e mi ha fatto effetto questa cosa che fosse un cane sfigato, molti di voi sanno che io faccio una pagina che si chiama Amori sfigati sugli amori che non funzionano, cioè tutti, il 98%, e mi sembrava che Tremolino facesse parte immediatamente di qualcosa che io conoscevo, cioè di un cane brutto, tremante, stronzo, ricordatevelo? Anche stronzo, che mi dicono a volte a me che lo sono, quindi era anche un cane un po' cattivo, satirico, io faccio anche satira, quindi non era il cane buonissimo, ma anche uno repellente da quello che mi dice, il mio sogno è di incontrarlo. Io schifido, no ma poi è diventato un principe come tutte le favole. Anche perché sta ritratto qua. La Chiara Raffaccina. Allora, la mia storia, sarò velocissima, l'ho intitolata, il mio disegno, storia sfigata ma dolce, di cane Tremolino e Dino. Non so perché mi è venuta questa cosa, però dovevo fare una storia d'amore, io sono abituata in storie d'amore che vanno malissimo, ma anche bene in quanto vanno male. Il dialogo tra... Allora, l'amore è un amore probabilmente omosessuale, non so se Tremolino è anche omosessuale. No, non lo so, però posso indagare. Indaga su questo. È un amore gay, in senso di gaio e gay in tutti i sensi. Allora lui si trova, ora descritto, è tremante, è molto brutto, come vedete, è niente di bello, e dice, sono Tremolino, cane brutto ma sexy. Io dovevo appigliarmi a qualcosa e ho pensato che questo cane gay, magro, tremante, era tremendamente erotico. E il suo innamorato, nella mia fantasia, si chiama Dino, che è un uomo altrettanto sfigato, brutto, magro, non so se Tremante, che dice, ti amo, io sono solo brutto. Per cui sono due sfigati, in una stanza molto bella, molto elegante, come l'appartamento dove sono appena stata ora del lounge degli scrittori, piena di tappeti, e sono molto felici di essere due brutti che si amano. Francesco Fagnani, Uccio Balestruccio. Buongiorno, io ho una storia un po' diversa rispetto a questo disegno, non mi è stato affidato un animale specifico. No, non è stato affidato perché tu non avevi tempo. Io per tradizione consegno dopo i termini di scadenza, e quindi è andata così. Però si è inserito all'ultimo momento. Cioè, Chiara è andata sul sicuro, ha detto, senti, sto facendo un calendario bellissimo per una matta che cura tutto. Hai un disegno carino che possa andare bene affettuoso. Lui ha detto, sì, ce ne ha mandato due. Uno era la balena. Lì mi sono fermata, ragazzi, non ci ho fatto. Due balene, ci hanno mandato due balene. No, ma io ero all'angolo della strada con uno spritz, mi hanno raccolto. La calappia illustratori qui presente. Calappia illustratori è bellissimo. Ma in realtà è questo l'interesse, perché ho mandato una serie di disegni non tematizzati su un animale specifico. Ho mandato una balena rosa enorme, questo uccellino che ha anche una coccinella, qui io non avevo detto quale sarebbe stato l'animale. Poi io ve lo descrivo questo disegno, perché lui non lo sa. Poi è un riccio fumatore, poi mi hanno fatto mettere un fiore in bocca, perché era una patologia sbagliata. Però loro mi hanno detto, ma vanno bene tutti, perché se arriva una balena curiamo anche la balena. Se arriva un riccio fumatore curiamo anche quello. Quelli tutti i giorni ne curiamo. Se arriva la coccinella, poi si sono sbagliati, hanno preso l'uccellino e quindi è diventato uccio. E' stato bello. E' molto giapponese. Zen. Sì, come me. E' bello lavorare a... Non capita sempre di lavorare con persone che ti trasmettono una passione così forte, anche per quello che vedono, e ti rispondono quando tu mandi il disegno. Quindi finita qui. Mi racconto Uccio Balestruccio e la coccinella. Quando Chiara mi ha detto che c'era uno trovato sotto il ponte appunto che mi ha fatto sto disegno, io l'ho guardato siccome erano arrivati tantissimi disegni molto belli, tra l'altro... No, ma non solo belli, erano a tema. Ok? Tipo il primo che trovate, che è il tredicesimo mese, che è il prossimo progetto di effetto palla, si chiama Il Regno di Palla e sarà un hospice per cani vecchi. Sarà un asilo e sarà un ostello per fracassati e rimessi a nuovo in attesa di andare in una nuova vita. Non sarà un canile, non sarà un rifugio, non sarà un gattile. Ci vogliono queste caratteristiche, devi appartenere a queste caratteristiche. E quindi erano tutti dei disegni che noi sapevamo già belli e che avrebbero sicuramente riflesso quello che noi pensavamo. Il suo disegno, casualmente, ma di casuale ormai in tutta questa storia io non posso più credere nella casualità, ma nella divina provvidenza e per divina ognuno applichi il suo divino ma nella provvidenza sì, questo disegno qua questo io noi alleviamo rondini, balestruci, rondoni perché ci capitano come CRAS, come centro per animali selvatici e io ho avuto per anni il soggiorno, un grande soggiorno pieno di rondini che volavano e di rondinucci hanno cagato tutta la casa però io non so quante altre persone si sveglino la mattina con la rondine con le rondine quindi Uccio tra l'altro che Uccio è una rondine che noi non abbiamo potuto liberare perché aveva un'ala fratturata e viveva come un papagallino quindi tristissimo immaginate le rondini migrano vanno, tornano, vedono altri paesi altre vite poi ritornano al loro nido una desolazione però lui cantava tutte le mattine sante ed è morto un giorno che io ero fuori ed è morto nelle mani di mia nipote la figlia di mio fratello che mi ha mandato un messaggio che mi ha detto tanto tempo fa ancora non si usava ha detto Uccio ha messo le ali e io ho scritto una cosa per lui piccola che diceva Uccio ha messo le ali le ha date in cambio delle sue che erano rovinate e questo è Uccio ma qua c'è un'altra cosa io sono felicissima questa è una coccinella che è il mio animaletto totemico ovunque io abbia fatto qualcosa fosse anche scegliere la casa da ristrutturare dove fare la clinica compaiono coccinelle perché la coccinella è sempre stato il mio animalino che ho condiviso con mio fratello che non c'è più e quindi io quando ho visto questo disegno questo disegno attraverso te mi è arrivato da mio fratello basta vogliamo ricordare che i calendari sono lì e che voi siete qui ad autografarli a chiacchierare siete d'accordo? a qualcuno altro? no poi non viene nessun altro quindi potete stare qui quanto volete dopo siete d'accordo? comprate per favore il calendario grazie bene allora dopo questo annuncio grazie per la vostra attenzione i nostri ospiti sono qui per voi grazie grazie